Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo appuntamento con la nostra resina dell'auto in concessionaria Fratelli Meloni, concessionaria di R, alle nostre spalle una bellissima grande novità ma ne parleremo dopo. Con Moreno Meloni parliamo innanzitutto di dove ci troviamo. Ciao Moreno. Ciao Rosi e salve a tutti. Ci troviamo a Rò, in Via Pace, al numero 70. Per trovarci è semplicissimo, basta seguire le indicazioni per la Fiera di Milano e poi mazzo dirò e ci trovate. Appunto come diceva Rosi abbiamo una grossa novità in casa di R, la nuovissima di R3. Innanzitutto vorrei dire due parole per quanto riguarda il marchio di R. Marchio nato nel 2006 con una gamma adesso abbastanza completa, con 5 modelli, con un ottimo rapporto qualità prezzo, un design, una cura nei particolari che rispecchiano chiaramente il gusto italiano. Tutte le vetture di R hanno la possibilità di avere anche la doppia alimentazione, benzina, GPL o benzina metano, per un'ottima economicità di esercizio e un alto rispetto per l'ambiente. Iniziamo a presentare la nuovissima di R3. È un SUV con delle linee quasi da coupé, con delle misure molto compatte, è lunga solo 4,20 metri, la larghezza è 1,76 metri, nonostante le dimensioni ridotte ha una grande abitabilità interna, ideale sia per muoversi in città che nei lunghi trasferimenti autostradali. Adotto un motore da 1.500 da 106 cavalli con la possibilità di avere la doppia alimentazione, benzina e GPL e l'allestimento è davvero molto completo. Infatti di serie la vettura ha la vernice metallizzata, paraurti in tinta, l'antifurto immobilizer, il tetto apribile elettrico, lo spoiler posteriore con il terzo stop integrato, gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, ABS, doppio airbag, cerchi in lega, fendinebbia, ESP, assistenza alla partenza in salita, TPMS che è il monitoraggio della pressione dei pneumatici, il cruise control, comandi radio al volante, telecamera posteriore per il parcheggio, autoradio con USB, viva voce e bluetooth, chiusure centralizzate con telecomando, servo sterzo, volante regolabile in altezza, climatizzatore, luci di urne a led, indicatori di direzione integrati negli specchietti, il computer di bordo, il sedile sdoppiato e gli attacchi Isofix per il seggiolino dei bambini. Tutto questo ha un prezzo veramente straordinario a soli 15.000 euro, ripeto costa solo 15.000 euro, 1000 euro in più se la volete con il GPL e 2500 euro in più se la volete con l'impianto a metano. Sentito tutto questo vi invito a venire a vedere questa vettura direttamente presso la nostra concessionaria. Adesso do la parola a Fabio per gli altri modelli. Grazie Moreno, un saluto anche da parte mia. Dopo la novità di casa DR che vi ha presentato Moreno, io incomincio dalla piccolina di casa DR, la DR0, una city car davvero compatta, lunga 3,57 metri che adotta un motore 1000 a benzina con la possibilità anche della doppia alimentazione una GPL. Ha un allestimento davvero completo. Pensate addirittura anche alla varnice metallizzata di serie, cerchi in lega, paraurti in tinta, il doppio bag, l'ABS, le luci di urne, i sensori di parcheggio posteriori, il schienale del sedile posteriore abbattibile, il trip computer, l'illumazione del vanno bagagli, i volanti regolabili in altezza, servo sterzo, i retrovisori esterni elettrici, il climatizzatore manuale, gli alza cristalli elettrici sia anteriori che posteriori, la chiusura centralizzata con il telecomando, la radio cd integrata in plancia con 4 autoparlanti, l'MP3 e la presa USB. Tutto questo per un'autovettura a 5 porte ad un prezzo veramente eccezionale, pensate solo 8500 euro, 1000 euro in più se volete l'impianto a GPL. Ed eccomi arrivato a presentare la nuova DR4, un modello che sta avendo veramente un grande successo in casa DR. È una vettura lunga 4,34 metri, larga 1,76 metri, molto spaziosa all'interno grazie ad un passo davvero generoso. Le linee morbide creano un design armonioso e molto piacevole. Come la tradizione DR ha una dotazione di serie molto ricca, come la vernice metallizzata, l'antifurto perimetrale immobilizer, il tetto apribile elettrico, lo spoiler posteriore col terzo stop integrato, gli specchietti retrovisori regolabili, richiedibili e sbrinabili elettricamente, i sensori di parcheggio davanti e dietro, gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, i specchietti elettrovisori in tinta con la carrozzeria, l'ABS, i 6 airbag, i cerchi in lega da 16 pollici, i fendinebbi anteriore con funzione di assistenza alla svolta sotto i 40 km orari, l'ASP, il controllo di trazione, il loader control, il monitoraggio di pressione pneumatici, il cruise control, le telecamere anteriori, laterali e posteriori per una visione a 360 gradi, comandi radio volante, autoradio con schermo touchscreen con USB e via voce Bluetooth, chiusura centralizzata con telecomando, gli interni in pelle, servo sterzo elettrico, volante regolabile in altezza, sedile guida regolabile in altezza, climatizzatore automatico, le luci di urna LED, sedili riposteri abbattibili 60-40 e gli attacchi ISOFIX. Tutto questo pensate ad un prezzo eccezionale davvero di soli 16.000 euro per la versione a benzina, 17.000 per la versione a GPL o 18.500 euro per la versione a metano. Ed eccomi arrivato a presentare il cavallo di battaglia di casa DR, la DR5 EVO, completamente rinnovata nel look e nei motori. Da un punto di vista estetico i cambiamenti riguardano soprattutto il frontale con nuovi gruppi ottici e la nuova calandra e i paraurti di nuovo disegno. All'interno le novità più importanti le troviamo nella plancia più ergonomica con inserti cromatici che le conferiscono maggiore eleganza, con motore rinnovato e meccanica rinnovata. Adotto a un motore 1.6 da 126 CV a trazione anteriore, disponibile anche con la doppia alimentazione a benzina GPL o benzina metano. Ovviamente la dotazione di serie è full option nel perfetto stile DR, come la vernice metallizzata, i cerchi lega da 17, l'ABS, il servo sterzo, il doppio airbag frontale, il climatizzatore automatico, il cruise control, l'ESP, i sensori di pressione pneumatici, l'antifurto sonoro perimetrale, l'immobilizzatore elettronico, interni di misto pelle e tessuto, l'apertura e chiusura a porte con il telecomando a distanza, chiusura centralizzata, l'autoradio con lettore USB, Bluetooth, comandi radio al volante e schermo touchscreen. Il sensore di parcheggio posteriore con la retrocamera, luci di urne, i retrovisori esterni elettrici, gli alza cristalli elettrici anteriori e posteriori, volante regolabile in altezza, i fendi nebbi anteriori e posteriori. Pensate a tutto questo ad un prezzo straordinario di soli 16.000 euro. E infine eccomi arrivato a presentare l'ammiraglia di casa DR, la DR6. È un SUV lungo 4,50 m, larga 1,84 m per un'altezza di 1,74 m. Una vettura dalle dimensioni davvero generosi con un grande spazio interno. Adotto motore 1.5 turbo benzina da ben 150 CV, con la possibilità della doppia alimentazione benzina GPL o benzina a metano. La dotazione è davvero completissima, partendo dalla vernice metallizzata, i parorti in tinta, l'antifurto perimetrale immobilizer, il tetto apribile elettrico, gli specchietti retrovisori regolabili e richiudibili elettricamente, i specchietti retrovisori sbrinabili, i sensori di parcheggio posteriori con la retrocamera, gli azze cristalli elettrici anteriori e posteriori, l'ABS, i 4 airbag, i cerchi in lega da 18 pollici, il fendinebbia, l'ESP, il controllo della trazione, l'assistente alla salita, il monitoraggio a pressione pneumatici, cruise control, comandi radio a volante, un autoradio con schermo da 8 pollici con l'MP3, la presa USB e il vivovoce Bluetooth, chiusura centralizzata, la chiave intelligente, il follow me home, il servo sterzo, la possibilità dello screen mirroring compatibile con il smartphone Android, volante regolabile in altezza, climatizzatore, luci di urna LED, il computer di bordo, gli indicatori di direzione integrati negli specchietti elettrovisori, gli attacchi Isofix e i sederi postori abbattibili 60 e 40. Al prezzo straordinario pensate di soli 20.000 euro per la versione a benzina, 21.000 per la versione a GPL, 22.500 euro per la versione a metano. E oltre alle vetture nuove DR e Nissan, da noi troverete anche una vasta gamma di vetture usate. Partiamo a presentarne qualcuna. Nissan Qashqai, versione a 100, quattro ruote motrici, 2.000 turbodiesel con cambio automatico del gennaio 2013, macchina davvero completa con navigatore e telecamera a 360 gradi, 82.000 km, costo 15.900 euro. Ford C-Max, 1.6 turbodiesel, Titanium Pack, ottobre 2012, vettura davvero completa, pochissimi chilometri, solo 41.000 a 12.450 euro. Chevrolet Cruze Station Wagon, 1.7 turbodiesel, marzo del 2013, 130 cavalli, vettura tagliandata sempre seguita da noi, 7.400 euro. Chevrolet Aveo, 5 porte con l'impianto a GPL, gennaio 2009, 73.000 km, 5.500 euro. Fiat Panda, 1.2 allestimento Lange, del gennaio del 2016, macchina completa, a 7.900 euro. Fiat Grande Punto, 1.2 benzina allestimento Lange, del febbraio del 2015, a 7.900 euro, solo 31.400 chilometri. Opel Corsa, 5 porte, 1.286 cavalli, maggio del 2011, 6.400 euro, solo 43.600 chilometri. Toyota Ego X-Site, con cambio automatico, febbraio del 2015, 8.900 euro. Chevrolet Cruze, 4 porte, allestimento L-TZ, 2.000 turbodiesel, 163 cavalli, marzo del 2011, 5.700 euro. Questi sono alcuni esempi dei nostri usati, tutte le nostre vetture le potete trovare sul nostro sito www.meloniauto.net. Da noi potete trovare chiaramente l'assistenza DR e noi siamo anche ufficina di assistenza e di vendita per quanto riguarda Nissan. Volevo sottolineare che i nostri prezzi sono dei prezzi veri, reali, non legati a nessun tipo di campagna, promozione, finanziamento, rottamazione, per cui il prezzo che voi avete sentito è il vero prezzo della vettura. Inoltre ricordo la nostra rinomata assistenza sia per il marchio DR che anche per Nissan dove abbiamo la vendita e l'assistenza. Il magazzino ricambi e tutto quello che vi può servire per quanto riguarda la vostra auto. A questo punto saluto e arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.